Italo Svevo, vita e opere Aaron Hector Schmitz nasce il 19 dicembre 1861 a Trieste. La città, durante il dominio asburgico, era un'importante crocevia di traffici commerciali e scambi culturali, e costituì per lo scrittore una ricca fonte di stimoli e suggestioni. Lo pseudonimo Italo Svevo, che l'autore volle darsi a partire dal 1892, rispecchia la sua duplice appartenenza linguistica e culturale. La madre era infatti italiana, e il padre tedesco, ed entrambi erano di origine ebraica. Da bambino Svevo frequenta la scuola israelitica di Trieste, e all'età di 12 anni viene mandato nel prestigioso collegio di Segnitz, in Germania, dove intraprende gli studi di tipo commerciale. Durante gli anni di collegio, Svevo scopre la passione per la letteratura, e si accosta alle opere dei grandi scrittori tedeschi. Nel 1878 torna a Trieste per completare gli studi, e si iscrive all'Istituto Superiore per il Commercio, ma continua ad alimentare il proprio interesse per la letteratura, leggendo i grandi scrittori realisti francesi e russi. Poco dopo, però, l'azienda del padre fallisce, e lo scrittore è costretto a interrompere gli studi, e ad accettare il suo malgrado un impiego in banca. Profondamente insoddisfatto per questa nuova condizione, egli cerca consolazione nella scrittura, collabora assiduamente con il quotidiano triestino L'Indipendente, compone alcune novelle e pubblica a proprie spese due romanzi, che però vengono accolti freddamente dal pubblico. Una vita, uscito nel 1892, e Senilità, del 1898. Entrambi i romanzi hanno per protagonista un inetto, cioè una figura debole e insicura, incapace di integrarsi nella società borghese moderna. Con queste due opere Svevo inaugura dunque un nuovo tipo di personaggio, che sarà emblematico di tutto il Novecento. Cercavo di riprendere a scrivere, ma non mi sentivo abbastanza forte per vincere la mia inettitudine. Non sapevo più pensare con la penna in mano. Il mio pensiero era costantemente rivolto ad Angiolina. Soltanto Angiolina. Angiolina, Angiolina. Nel 1896 Svevo sposa Livia Veneziani, figlia di un importante industriale triestino, e pochi anni dopo decide di lasciare il suo impiego in banca per entrare nell'azienda del suocero, che produce vernici antiruggine per imbarcazioni. Lo scrittore si trova improvvisamente proiettato nel mondo dell'alta borghesia, stringe relazioni d'affari in tutta Europa e compie lunghi soggiorni a Londra. I suoi nuovi impegni lo spingono però a trascurare l'attività letteraria per alcuni anni. In questo periodo si limita a comporre alcune commedie e racconti, da cui emergono il suo sottile umorismo e l'acuto spirito critico. Nel 1906 Svevo conosce lo scrittore irlandese James Joyce, che insegna a Trieste, presso la Berlitz School, e da cui prende lezioni d'inglese. Tra i due scrittori nasce un forte rapporto di amicizia, basato anche su una profonda affinità intellettuale. In questi anni Svevo si accosta anche alle teorie psicoanalitiche di Freud, e legge Schopenhauer, Nietzsche e Darwin, che influenzano profondamente il suo pensiero e la sua opera. Nel 1917 la fabbrica del suocero viene requisita dalle autorità austriache per far fronte alle necessità della guerra, e Svevo si ritrova improvvisamente libero da ogni impegno lavorativo. Riprende perciò a pieno ritmo la sua attività intellettuale, e progetta il suo terzo romanzo, La coscienza di Zeno, che verrà pubblicato nel 1923. L'opera è costruita come una sorta di memoriale che il protagonista Zeno Cosini scrive su invito del suo psicanalista. Svevo propone qui un'impostazione narrativa rivoluzionaria, adottando come unico punto di vista quello del protagonista narratore. Un inetto dotato di un umorismo corrosivo che abbatte tutte le certezze del mondo borghese. Anche questo romanzo non incontra il favore del pubblico, deluso e amareggiato, Svevo decide di inviare l'opera a Parigi all'amico Joyce. Lo scrittore irlandese ne riconosce subito lo straordinario valore, e la sottopone all'attenzione degli intellettuali francesi, che mostrano grande apprezzamento. La fama di Svevo si diffonde velocemente in tutta Europa, mentre in Italia l'importanza della sua opera verrà riconosciuta soltanto alcuni anni più tardi, grazie ad alcuni intellettuali, tra cui il poeta Eugenio Montale. Incoraggiato dal tardivo successo, Svevo compone una serie di racconti e alcuni testi teatrali che saranno pubblicati postumi. Comincia anche a progettare il suo quarto romanzo, che ha ancora Zeno come protagonista. Di quest'opera però non ci restano che pochi frammenti, perché l'autore muore improvvisamente l'11 settembre 1928, a causa delle ferite riportate in un incidente d'auto a Motta di Livenza, nei pressi di Treviso.